Possedere il mondo e abitarlo. Anni fa Eric Fromm, in un celebre libro, distingueva tra avere e essere, avere o essere. La distinzione era netta, un'esistenza fondata sul solo realizzarsi come aventi semplicemente qualcosa e non essenti, ad esempio accumulare proprietà, oggetti, denaro, senza sviluppare l'interiorità della propria persona, della propria anima, aveva a che vedere più con una vita vuota nel pieno, futile nell'apparente utilità dell'avere. Io oggi declinerei quel dualismo anni 70 in altri termini, paralleli e in qualche modo consustanziali. Si tratta del dualismo tra possedere il mondo e abitarlo. L'accento ovviamente va sull'abitare, sul senso dell'essere al mondo come abitarlo. Pensiamo a una casa come proprietà e una casa abitata. La proprietà di quella casa non assicura il suo godimento, per dirla alla Levinas, come casa abitata. In generale, lo spazio che io ho, nel senso di possederlo, non necessariamente coincide con lo spazio che abito. Il paradosso arriverebbe anche a configurare una mia casa di proprietà, da uomo solo o uomo in famiglia, come spazio disabitato, non goduto, non mio. Uno spazio in cui, ad esempio, mi aggiri come un estraneo. Se è semplice intenderci sul senso di un luogo come possesso, più complesso è intenderci sul luogo come abitazione. Cosa vuol dire abitare un luogo? Noi ci chiamiamo, e talvolta sembra una scommessa, abitanti della Terra. Ma possiamo anche definirci possidenti del pianeta, proprietari della Terra? E il pianeta stesso è più in sintonia con noi quando lo possediamo o quando lo abitiamo. Paradossalmente, quando ci sentiamo i proprietari della Terra, come anche i proprietari di un pezzo di Terra, non è detto che questo voglia dire necessariamente abitarlo, abitare quel pezzo di Terra, ad esempio. Perché se così fosse, avendo già alla nascita ereditato la Terra sotto i nostri piedi, come il cielo sopra le nostre teste, anche il cielo sarebbe da considerare nostro, nostro possesso e proprietà. Siamo noi in grado di abitare il cielo? Forse sì o forse no, ma quel forse, che sì, che no, vale anche a maggior ragione per il pianeta. La verità è che il luogo non è la Terra sotto i nostri piedi, nella Terra come pianeta. Abitare il mondo non ha neanche bisogno di un modo, di un mondo, scusate, da avere, nel linguaggio di From o di possedere. Mentre fra la Terra i nostri piedi, come fra il cielo e le nostre teste, vi è uno scarto, essendo noi per così dire gli ospiti su un globo che ci ospita, pur avendoci generati, è di un cielo stesso che ci avvolge, tra l'avente luogo e il luogo, tra l'abitante e il luogo abitato, vi è una perfetta simbiosi, quella che fa sentire l'ospite fuso con l'ospitante e l'abitante tutt'uno nell'abitazione, come il feto nella sua placenta. Abitare dunque vuol dire essere, nel senso di From, mentre possedere vuol dire avere l'oggetto esterno con cui mai ci si fonde. È un rapporto diverso con lo spazio. Lo spazio misurato è lo spazio vissuto, lo spazio che tu misuri è lo spazio che ti misura, anzi che entra dentro di te, ma non come oggetto. Ma è il mondo stesso che noi siamo quando non lo vediamo semplicemente come spazio fondo, fondo spazio in cui vivere. Ma il luogo, il nostro luogo, dove non ha nulla di possessivo, non ha nulla del possesso, dell'avere. Non a caso quella dell'abitare un luogo, dell'abitare il luogo che si confà a noi, non è una visione, ma è una percezione. Io sento di essere nel luogo che mi fascia senza stringermi, senza stritolarmi e non ho bisogno né di misurarlo né di guardarlo dall'esterno. Anche per l'esule talvolta si dice che egli porta il luogo con sé, quando il luogo coincide con l'anima che trova luogo dappertutto, anche se per dirla con Ungaretti, in nessuna parte della terra, ci possiamo accasare, come esuli, in nessuna parte specifica. Il luogo in cui davvero abitare, quello che coincide solo indirettamente con una terra, è metafisico più che fisico. Non ti si soddisfa, non ti soddisfa come un possesso, come una casa esclusivamente tua per contratto, ma ti ci trovi bene, come nella tua pelle e come una casa sospesa e senza tetto partecipa anche del cielo, anche esso per così dire cielo placenta. Se poi pensiamo che per noi lo spazio è anche tempo, quello spazio che portiamo con noi senza essere nostro come un possesso, abitarlo vuol dire anche abitare l'impossibilità del tempo, l'impossibile del tempo, lo simoro per eccellenza, cioè fare del tempo fuggevole e disabitabile, una dimora nel vento. Questo vorrebbe dire un po' liricamente l'abitare. Fare dello spazio-tempo una dimora nel vento. Tra terra e corpo l'io ha bisogno di un luogo metafisico da abitare. Questo luogo può coincidere, ma non necessariamente, con uno spazio fisico, una casa, un'isola, un bosco. Ma c'è chi giura che anche nell'anima o persino nell'anima mundi, vi sono questi spazi preziosi da abitare. Ad esempio nella fantasia, nell'arte, nel mito, nella musica. Ma senza estendere troppo il discorso nell'ambito estetico, ciascuno di noi è alla ricerca di quel luogo, insieme suo e non suo, da abitare più che da possedere, che forse rappresenta il luogo sacro in cui andare e a cui tornare, casa nel senso metafisico della parola. Abitare è un'arte, quella che ci permette di stare dentro le cose del mondo senza esserne proprietario o misuratore. Il ritrovamento di quel luogo privilegiato che ci attende è un destino e una fortuna. Far conciliare il luogo metafisico che ci attende con il luogo fisico è qualcosa che probabilmente ci avvicina all'ideale della felicità. Grazie.